Pomezia venne fondata il 25 aprile 1938, giorno in cui con grande risonanza mediatica si posa la prima pietra. Appena 18 mesi più tardi la città sarà già pronta per essere inaugurata. Pomezia è l'ultima delle cinque città nuove progettate e costruite nell'ambito del grande piano di bonifica integrale dell'agropontino romano, stretta a un nome che la colloca più delle altre in un immaginario di ruralità produttiva e proficua, sorta come le altre al confine di una cesura fra antichi mondi in dissolvimento e speranze di riscatto sociale. Di fatto scompariva un intero ecosistema e lasciava il posto a una diversa idea di realtà che se pur fusa disegni politici e contingenze della storia iniziava a vivere di una propria vita, di un proprio destino, a costruirsi una sua identità. Ma quale configurazione spaziale quali forme architettoniche vengono scelte per la città nuova? L'estetica e l'arte che sostanziano le forme della neonata Pomezia richiamano atmosfere metafisiche, ma senza alcun elemento di sovvertimento dell'ordine sociale e della tradizione italica e romana, ancora riconoscibile nello stile novecentista dalle linee essenziali e composte. Negli anni 20 e 30 del novecento in Italia solo il futurismo si pone con un atteggiamento di totale rottura. Per gli altri movimenti dell'architettura, il novecento e il razionalismo, il riconoscimento delle esperienze internazionali non esclude la necessità di un raccordo fra novità e tradizione, in un linguaggio architettonico unitario capace di suscitare una coerente organizzazione urbana, nella sobrietà, nella rinuncia, nella sintesi. Anche a Pomezia dunque si tornerà alle superfici lisce, alla elementarietà della composizione, alla costrizione della decorazione e solo ai punti dove si vuole raccogliere l'attenzione. È così che ancora oggi possiamo viverla e sentirla questa città, quando dal fitto della boscaglia urbana, disordinatamente cresciuta a partire dagli anni del dirumpente sviluppo industriale, ci si fa largo verso il centro e si scopre la radura architettonica del nucleo aulico di fondazione, che ha conservato pressoché intatta l'atmosfera di piccola cittadina rurale, frutto di una riflessione urbanistica di spessore. Si ha ancora la sensazione di scorgere lo sguardo ammirato dei coloni fondatori, che vennero da punti cardinali diversi, ad abitare i poderi, a coltivare le campagne, a ritrovarsi nell'area urbana di Pomezia, per le necessità degli scambi sociali, religiosi, economici e culturali. Alla domanda che sensazione destava una città così moderna, così chiara, così nuova, Pietro Guido Bisesti, figlio di coloni trentini nato nell'agropontino romano risponde, per loro fu uno stupore, per il nuovo che c'era, per la modernità. Le case ancora profumavano di calce, perché erano appena state costruite. Da ogni podere si vedeva all'orizzonte il campanile della chiesa e la torre civica. Praticamente loro si sentivano dentro la città, anche se abitavano lontano. Grazie. Grazie.